E' stato presentato il Master di Primo Livello Economia e Management delle imprese cooperative, nato dalla collaborazione tra Lega Coop Abruzzo e Università d'Annunzio Chieti Pescara, con il sostegno di CoopFund. Il Master ha lo scopo di formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, capace di condurle a un'alta competenza professionale, in grado di guidarle verso percorsi innovativi e di sostenibilità. Il corso risponde all'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e l'imprenditorialità cooperativa, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere e gestire le peculiarità dell'impresa cooperativa. Come nasce questa iniziativa? Il docente dell'Università d'Annunzio, nonché coordinatore del Master, Antonio Gitto. Il Master è nato appunto dalla collaborazione che abbiamo con Lega Coop Abruzzo e su impulso della Lega Coop Abruzzo, che ha chiesto all'Università di organizzare un Master, ovviamente rivolto prevalentemente ai giovani, ma non soltanto, che formasse delle figure professionali che possano gestire le società cooperative in maniera manageriale come i tempi di oggi richiedono. Ovviamente le imprese cooperative sono molto particolari, sono molto attente per esempio al tema della sostenibilità, che è uno dei temi nell'agenda di oggi ed è uno dei temi perché non soltanto dobbiamo avere maggior rispetto per l'ambiente e soprattutto sfruttare al meglio le risorse di cui disponiamo, ma anche perché il legislatore ha particolarmente a cuore questa tematica e quindi oggi i vincoli legati alla sostenibilità cominciano ad essere tanti e servono delle figure professionali adeguate e non soltanto nel mondo delle cooperative che però per primo si sta attrezzando in questo senso. Dunque è un rapporto fruttuoso quello con Lega Coop? Sì, un legame in questo momento assolutamente fruttuoso, come è giusto che un'Università abbia con tutte le associazioni datoriali, con le categorie professionali e sicuramente Lega Coop Abruzzo è stata molto attiva da questo punto di vista. Chi può partecipare a questo Master e quando scaderà il bando? A questo Master sostanzialmente possono partecipare tutti, naturalmente noi siamo particolarmente rivolti ai giovani ma non soltanto a loro, il bando è stato pubblicato il 27 febbraio, rimarrà adesso affisso per 30 giorni, poi procederemo alle selezioni dei candidati e verosimilmente per metà aprile dovremmo partire con questo corso. L'approccio multidisciplinare, hanno detto i relatori del Master, permette di acquisire competenze di carattere economico-aziendale, manageriale e giuridico, coniugandole con il rispetto dei tipici valori del sistema cooperativo e dello scambio mutualistico. La figura professionale formata dal corso può trovare sbocco nel panorama cooperativo italiano con ruoli apicali e di governance con un'apertura all'internazionalizzazione. In particolare si pone l'obiettivo di formare le figure di responsabili amministrativi, finanziari di controllo di gestione e commerciali. Il presidente Lega Coop Abruzzo, Luca Mazzali. Ma in questi anni abbiamo assistito ad una importante ripresa del mondo cooperativo nella nostra regione. Le nostre cooperative hanno riacquistato spazi legati alla presenza su territori importanti, stanno crescendo perché è un modello che ha dimostrato in questi anni di crisi di avere gli anticorpi per gestire i momenti di difficoltà, di avere degli ammortizzatori di socialità interna nelle nostre cooperative che consentano di assorbire i momenti di difficoltà e rilanciare il progetto quando riparte l'economia. Siamo alla ricerca di nuovi professionisti che vogliono misurarsi con la nostra realtà lavorativa e chiaramente il mondo della cooperazione, pur trattandosi di impresa, di attività di impresa, delle regole, delle logiche diverse, questo master si pone l'obiettivo di formare professionalità e che si sappiano misurare con queste realtà, che abbiano le competenze necessarie e possano quindi dare risposta alle richieste occupazionali che in questo momento Lega Coppa Abruzzo rivendica. Soprattutto in un periodo come questo in cui ci si aspetta un rilancio del mondo del lavoro dopo quello che abbiamo passato. L'indicatore, certamente c'è stata una forte richiesta di mano d'opera, di lavoratori nel 22, l'inizio del 23 comunque dà ancora indicazioni di questo tipo, poi chiaramente bisogna aprire un'ampia riflessione sulle tipologie di lavoratori che sono ricercati, sulla disponibilità, sulle retribuzioni, insomma poi credo che anche poi il governo abbia una materia rispetto alla quale credo che anche l'impegno del governo sia importante. E Lega Coppa di certo non si tira indietro di fronte a iniziative come queste? Noi abbiamo sposato pienamente questa iniziativa da parte dell'università, siamo contenti di essere insomma promotori di un master che focalizzi i temi legati alla gestione e di una cooperativa, gli elementi che riguardano i rapporti tra questa e gli stakeholder e il mondo esterno e quindi insomma riteniamo fondamentale un progetto di questo tipo. Tra i relatori presenti alla conferenza stampa anche il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strevere, il sindaco di Pescara Carlo Masci, Michelina Venditti, componente del consiglio del master e soprattutto diversi studenti incuriositi da questa nuova visione di manager. Il professor Francesco De Luca, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale Università d'Annunzio ha sottolineato Siamo molto lieti oggi di avviare e di presentare questa nuova iniziativa formativa nell'ambito del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio che mira in particolare a formare una figura professionale che è il manager delle imprese cooperative e che per la sua elevata professionalità ha il compito di traghettare l'impresa cooperativa verso i nuovi obiettivi di innovazione e di sostenibilità. Beh, una sfida importante questa? Una sfida importante ma è sicuramente coerente con il contesto e il territorio e il tessuto imprenditoriale che ce lo chiede e soprattutto è un'iniziativa che riusciamo a portare avanti grazie alla collaborazione che da tanti anni abbiamo avviato con LegaCop che si è tradotta anche nelle iniziative del Career Day rivolte per esempio a individuare studenti meritevoli da inserire nell'ambito delle imprese aderenti al circuito di LegaCop. Il tutto rivolto non solo ma in particolare ai giovani? Sicuramente è un master che è accessibile ai laureati triennali quindi i laureati che possono immediatamente perfezionare il loro percorso formativo dopo il titolo triennale e avere sicuramente maggiori chance e ampie possibilità di essere inseriti immediatamente nel mercato del lavoro. Un manager a lunga, di lunga veduta possiamo dire? Sicuramente fa parte degli obiettivi del periodo, la transizione digitale, la transizione ecologica sono criteri e passaggi ormai necessari per tutte le aziende e ancor più per quelle che hanno una finalità mutualistica come le imprese cooperative. C'è stata una ripresa delle imprese per quanto riguarda il lavoro in Abruzzo? Beh sicuramente sì, abbiamo dei dati che vengono fuori appunto dalle analisi regionali del settore che dimostrano una ripresa e soprattutto, aspetto molto importante, un superamento dell'emergenza Covid quindi della discesa di tutti gli indicatori di economicità che c'è stata e che le imprese hanno subito per effetto appunto dell'emergenza sanitaria. Un percorso di studi specializzato che vede, come detto, la collaborazione tra Università d'Annunzio Chieti Pescara e Lega Coop Abruzzo con il sostegno di CoopFund. I lavori sono stati coordinati dal professor Antonio Gitto, coordinatore del Master. Questo percorso, dice, vuole formare imprenditori e manager per il mondo cooperativo, guardando al futuro. Il Master, aggiunge ancora, sarà aperto a tutti gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale. Le iscrizioni già aperte si chiuderanno il prossimo 28 marzo e il corso sarà attivato per un minimo di 12 studenti e un massimo di 30. Sarà un Master multidisciplinare focalizzato su discipline aziendalistiche sul mondo cooperativo ed è quanto mai necessario creare manager che abbiano chiaro il tema della sostenibilità. L'inizio dei corsi è previsto, come detto, per metà aprile. Luca Mazzali, presidente di Lega Coop Abruzzo, ha ricordato che grazie ad alcune delle cooperative associate c'è la disponibilità in caso di studenti meritevoli che si trovassero in condizioni economiche tali da non potervi accedere a sostenere l'iscrizione. E poi ci saranno concrete opportunità lavorative nelle cooperative abruzzesi e nelle associazioni di cooperative della regione. Il professor De Luca, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale della D'Annunzio, ha sottolineato come con questo Master colmiamo un gap formativo. Sono certo che l'iniziativa attrarrà molti studenti, oltre a rafforzare e concretizzare il rapporto con Lega Coop, fondato su collaborazione e mutuo aiuto. Presente per i saluti istituzionali è anche il sindaco di Pescara Carlo Masci. C'è un grande legame tra la città di Pescara, l'Università Lega Coop Abruzzo, le cui attività mutualistiche sono fondamentali per il mondo che stiamo vivendo. Va sempre dimostrata concreta vicinanza a chi tocca con mano ogni giorno i problemi delle persone. Si parla tanto di transizione ecologica e digitale, ma non dobbiamo mai dimenticare la transizione culturale. Nel suo intervento il presidente Mazzali ha poi spiegato che vogliamo diffondere il messaggio che si può fare in presa attraverso formule diverse. Il modello cooperativo, secondo noi, è quello che meglio si adatta a mercati in continua evoluzione. Nelle nostre cooperative, che lo ricordo, spaziano in tutti i settori. Abbiamo bisogno di persone con formazione e una specializzazione più completa. Lega Coop Abruzzo è la prima, dopo l'Emilia Romagna, che per tradizione è la locomotiva del mondo cooperativo a far partire un master sulla formazione di figure manageriali specifiche. Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, ha ricordato che la conoscenza arricchisce, l'ignoranza impoverisce. Apprezzo molto questa iniziativa che forma i giovani, che possono essere quadri o dirigenti, e dobbiamo dire grazie, oltre che all'Università e a Lega Coop Abruzzo, ai giovani che hanno volontà di crescere, perché sono il nostro futuro. Prezioso anche il contributo di Michele Di Bartolomeo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara. Nel sistema cooperativo, dice, c'è una valorizzazione del lavoro, che non è solo un fattore di produzione, ma uno strumento per realizzarsi e valorizzarsi. A voi giovani dico di formarvi, perché solo con cultura e conoscenza siete davvero liberi. Le materie di questo Master andrebbero approfondite e inserite nei corsi universitari. Il Master, oltre che dai promotori di Lega Coop, ha avuto anche l'apprezzamento delle altre realtà associative e regionali. Oggi si parla molto della differenza tra i profili richieste dalle imprese e di quelli realmente disponibili e della facoltà di avere personale formato, ha detto Fabio Travaglini, vicepresidente di Agice Abruzzo, e quindi centrale l'incontro tra formazione e mondo delle imprese. Quello cooperativo non è un piccolo mondo, ma rappresenta fette importanti di mercato ed economia e ha necessità di persone formate anche a livello apicale. A concludere gli interventi è la professoressa Michelina Venditti, componente del Consiglio del Master. Questo è un ulteriore passo del rapporto tra Dipartimento di Economia e Lega Coop Abruzzo, che fa già parte del comitato di indirizzo, ha partecipato al nostro dottorato di ricerca e ogni anno assegna una borsa di studio. Ma abbiamo ancora tanto percorso da fare insieme. Il modello cooperativo che studio e seguo da anni è di grande spessore. Oggi l'imprenditorialità cooperativistica rappresenta anche una prospettiva occupazionale di grande interesse ed è positiva anche l'istanza di inserire le materie che tratteremo nel Master nei regolari corsi di studio. Porto avanti questi argomenti da anni trovando notevole interesse negli studenti.